Reinterpretare i delitti di Jack lo Squartatore dopo 120 anni. Elementi necessari. Esterno londinese. Panoramica. Taglio. Abbiamo un emulatore. Effetti sonori. Taglio. Benvenuti all'inferno, signori. Primo piano. Taglio. 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 Dissolvenza in nero. Jack lo Squartatore è tornato. Una delle più belle miniserie mai prodotte dalla BBC. Whitechapel. Ogni venerdì alle 21.55 su Fox Crime. Grazie.